Il project, un nuovo progetto A cura di carne Il regista e l'attore E diciamo tutto lo staff E praticamente è la carne Noi lavoriamo fondamentalmente con dei pezzi pregiati Carne certificata La chianina marchigiana E presso il nostro ristorante Potrete gustare effettivamente tutte quelle che sono le bontà Alla griglia E ovviamente preferiamo farvi assaggiare la carne Perché siamo convinti che questo nuovo progetto Di lavorare con la carne Certificata di qualità E di provenienza dichiarata Da in questo momento difficile per la ristorazione Sicuramente più forza e più capacità di potersi esprimere Con qualità E convenienza per il cliente E, ahimè lo devo dire In onore di quella che è la nostra professione Nel mio caso Di chef con circa 30 anni di esperienza Insignito con questo qui Che è un riconoscimento di anzianità Oltre 25 anni Riconosciuto con questo collare Del collegio Co-corum Federazione Italiana Cuochi E dicevo abbiamo preferito Dare un Un senso diverso E professionale Alla ristorazione tipica salernitana Scegliendo i prodotti migliori E presentandoli In una maniera molto semplice Una cucina molto Variegata, saporita Ma nel contempo Di qualità E che possono sicuramente Far felice Tutti i palati Anche e soprattutto I più esigenti Quindi Prodotti alla Alla carta Scelti Personalmente Dai titolari E anche da me Per dare questo Input di qualità E di professionalità Lavorati Alla griglia E presentiamo Nel nostro Menù Comunque variegato Anche se Diciamo che La nostra ristorazione Principale Riguarda Gli antrepasti I secondi piatti I piatti di carne I formaggi I salumi I salumi pregiati Il buon vino Che accompagna le carni Del dessert Rigorosamente Fatto in casa E un piccolo bar Di conforto Che Praticamente Riesce a fornire Al cliente Tutte le opzioni Per farlo sentire A proprio agio Il cliente viene da noi Mangia Gradisce Prodotti Di qualità Grigliati Quindi la griglieria Gli antipasti Rigorosamente Passati Alla griglia Abbiamo scelto Le cose più Come dire Semplici E Lavorando In una determinata Maniera Professionalmente Esprimendoci Attraverso La griglia Noi riusciamo A stupire Gli occhi E I palati